Hola chicos, oggi siamo insieme a Kultra che è un servizio di noleggio scooter lo proveremo per voi perché è un metodo molto conveniente per girare la città e scoprire tutti i punti di interesse e se venite con noi vi facciamo vedere tutta Barcellona Siamo in spiaggia! Dove si va ora Sara? Alla Sagrada Familia Alla Sagrada Familia